Il barattino Sauros, il Matteo Sauros, prima dell'aperitivo, perché dopo è tutta una da storia. Siamo venuti a ringraziarvi per essere stati qua stasera. Se ami qualcuno, potresti lasciare libero, così dice Sing. L'album The Dream of the Blue Tart, se non sbaglio, è un album che contiene in Russia. Love is a second way, consider me gone, è qualcos'altro. L'album The Dream of the Blue Tart 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 Yeah, love, so much, so good Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Don't even think about me If you love somebody If you love someone If you love somebody If you love someone If you love someone If you love somebody If you love somebody Grazie a tutti Grazie a tutti